Un secondo appuntamento, una seconda edizione del progetto Ci sto a fare fatica, facciamo il bene comune, un progetto che nasce da un'idea del CSV Marche ma ha avuto finanziamento della regione Marche che ringraziamo perché ha dato la possibilità a tanti ragazzi dai 16 ai 21 anni di fare un'esperienza bellissima per il secondo anno consecutivo, cioè quella di occuparsi di manutenere i beni comuni delle città, dei comuni della provincia di Pesaro Urbino. Quest'anno in particolare siamo molto contenti perché sono 14 i comuni della provincia che hanno aderito al progetto, mentre lo scorso anno erano solamente 3 abbiamo avuto la possibilità di ampliare le adesioni dei comuni, quindi sono 14 quelli che parteciperanno e già fino ad oggi sono 40 i ragazzi che hanno dato l'adesione a partecipare. Un impegno importante per loro perché li vedrà impegnati durante la mattina dalle 8.30 alle 12.30, potranno settimana di settimana occuparsi dei quartieri, dei luoghi dove è necessario fare dei piccoli lavori di manutenzione. I ragazzi che si impegneranno in queste settimane riceveranno dei buoni fatica di un importo di 50 euro che non sono però denaro vero e proprio ma sono dei buoni che possono spendere in attività commerciali del luogo. Si tratta di negozi di abbigliamento piuttosto che di librerie, quindi investiamo sul divertimento e anche sulla cultura. Il progetto è partito ma c'è ancora la possibilità di aderire in corso d'opera? Si, il progetto è partito, durerà fino al 30 di luglio e settimanalmente sarà possibile per i ragazzi che decidono di partecipare iscriversi tramite il sito o del csvmarche www.csvmarche.it oppure proprio con il sito di www.cistoaffarefatica.it. Un altro aspetto molto importante è che i ragazzi saranno seguiti da dei tutor che riceveranno a loro volta dei buoni fatica per il loro impegno che sono ragazzi dai 21 ai 35 anni, quindi un po' i fratelli maggiori che li aiuteranno a vivere questa bellissima esperienza e insieme a loro ci saranno invece gli handyman, quelli che noi chiamiamo handyman, cioè persone che hanno esperienza e capacità manuale che insegneranno ai ragazzi le attività che dovranno svolgere. Quindi un'importante occasione di scambio intergenerazionale, i ragazzi più giovani con persone con più esperienza e con qualche anno in più, che però insieme fanno rete e lavorano per il bene della città. Grazie.